siamo pronti per il duecento metri uomini cominciamo a presentare in corsia sei già protagonista negli ostacoli dall'Ecuador Marcos Herrera sta valida per questo duecento metri parte come lo stesso Claurence Muniai attenzione al sudafricano che vola in corsia cinque all'interno bene anche Keita attenzione a Claurence Muniai signore e signori il primatista del sudafrica nettamente davanti va a vincere venticinquantadue perde qualcosina nel finale non gli permette di fare il record del meeting che rimane di Luxolo Adams grazie a tutti i rifiúi un giorno grazie a tutti i rifiúi un numero che si può dormire da sopra non gli frawa